I gradini delle scale non sono impermeabili. L'acqua superficiale può farsi strada nella struttura passando attraverso i giunti delle pedane e dei rivestimenti dei gradini. Il risultato sono danni che si presentano sotto forma di tracce di calcare, macchie di umidità o di stacchi del rivestimento. Con Acqua Drain SD, Gutiard offre il primo sistema di drenaggio per i gradini delle scale esterne. Detto sistema fa defluire l'acqua in modo mirato e accorcia i tempi di asciugatura del rivestimento. Acqua Drain SD è un elemento di drenaggio formato da un unico pezzo, sul quale si può eseguire la posa di rivestimenti in pietra naturale o ceramica sia sul letto di malta sia su colla. Mostreremo innanzitutto la posa della pietra naturale su un letto di malta drenante. Come prima cosa, si deve verificare che la pedata abbia un'inclinazione pari ad almeno l'1%. Se essa manca, la si deve creare con un prodotto idoneo. In linea di principio, si raccomanda di proteggere il corpo delle scale con un sistema impermeabilizzante. Se sotto le scale si trovano dei vani abitati, un simile sistema non può mancare. A tal fine, si deve applicare uno strato di malta liquida impermeabilizzante idonea su tutta la struttura delle scale. Se i fianchi delle scale sono esposti, si deve incollare una striscia acqua drain di deviazione dell'acqua nella malta appena posata e coprire poi tutta la superficie con il sistema impermeabilizzante. La striscia impedisce la fuoriuscita di acqua sui lati e di conseguenza il formarsi delle tracce antiestetiche di calcare. Ora si inizia a installare il sistema di drenaggio per i gradini. Innanzitutto, si devono tagliare su misura gli elementi di drenaggio. Poi si deve fissare l'elemento di drenaggio nell'alzata. Per farlo, si applicano delle strisce di colla D-Protek Fixbit per montaggio sul retro del sistema di drenaggio e si fissa poi l'elemento di drenaggio. Tra gli elementi di drenaggio montati sulla pedata e sull'alzata, si deve lasciare uno spazio di circa 3 mm. Qui si deve incollare del nastro VATEC per giunti di dilatazione. Sopra l'aria di giunzione tra il sistema di drenaggio e la striscia di deviazione dell'acqua, si deve incollare una striscia coprigiunti VATEC. Per il drenaggio dei gradini delle pedane o per i terrazzi collegati alle scale esterne, si utilizza il sistema di drenaggio superficiale, acqua drain e cappa. Detto sistema è stato sviluppato appositamente per i rivestimenti applicati su malta drenante. Nel caso delle scale esposte, si può utilizzare una cassaforma per agevolare i lavori. Essa viene montata prima della posa delle lastre per gradini. Alzata e pedata vengono irraggiati in modo differente. Per evitare la formazione di crepe nei giunti per via dell'apporto termico diverso, è necessario annegare nella malta drenante la griglia acqua drain in acciaio inox. Innanzitutto, si deve tagliare su misura la griglia. Per un posizionamento ottimale della malta drenante, si consiglia di utilizzare dei frammenti di piastrella che agiscano da distanziatori tra l'elemento di drenaggio e la griglia. Per la posa del rivestimento in pietra naturale, si impasta ora una malta drenante idonea. La posa delle lastre avviene dal basso verso l'alto. Innanzitutto, si applica uno strato di contatto su tutta l'alzata e si riempie di malta drenante lo spazio tra la lastra e il gradino. Ora, si stende uno strato di 40 mm di malta drenante per la posa della pedata. Sullo spigolo dell'alzata e sul retro della lastra per la pedata, si applica uno strato di contatto. E si pone in opera la pedata fresco su fresco nel letto di malta. Per agevolare la posa, si possono utilizzare dei fermagli che fungono da distanziatori. Fatto ciò, si posano gli altri gradini procedendo, come già descritto, dal basso verso l'alto. Sotto i gradini si forma un sistema continuo di drenaggio che fa defluire l'acqua in modo mirato e impedisce la formazione di tracce di calcare e macchie di umidità dovute al ristagno dell'acqua. I lavori si concludono con la posa dell'ultima lastra, quella più in alto. Ora si possono staccare i fermagli e pulire i giunti. Se si è fatto uso di una cassaforma, si può procedere alla sua rimozione. Finito! I gradini delle scale sono pronti per l'uso. Se le altezze di montaggio non permettono la posa su malta drenante, per i rivestimenti ceramici si può anche eseguire la posa in letto sottile su Acqua Drain SD. Ciò è reso possibile da un mix di materiali, modificato per conferire ancora più stabilità agli elementi di drenaggio. I preparativi, ovvero il controllo dell'inclinazione, l'eventuale impermeabilizzazione dei gradini, l'installazione della striscia di deviazione dell'acqua e l'applicazione del sistema di drenaggio per gradini, sono identici a quelli per la posa sulla malta drenante. Conclusi i detti lavori, si stende sul sistema Acqua Drain SD di drenaggio per gradini una malta idonea a letto medio, facendo uso di una spatola a dentatura media. Nella posa a letto sottile, la lavorazione deve avvenire dall'alto verso il basso. Ora si annega la griglia nello strato fresco di malta. Sullo retro del rivestimento, si applica con una spatola dentata uno strato sufficiente di colla, e si posano fresco su fresco le lastre per gradini. Per le scale di grandi dimensioni, si consiglia di applicare la griglia su tutto l'impianto, e di stendere poi la malta a filo superficie. Il giorno dopo, si provvederà alla posa in letto sottile del rivestimento sullo strato di malta indurito. Per finire, si stuccano i giunti con una malta idonea. Finito! A prescindere che la posa venga eseguita in letto di malta o di colla, con il sistema a quadren di drenaggio per gradini, Gutiard offre un sistema innovativo che preserverà a lungo l'estetica e l'integrità delle vostre scale. Grazie mille! Grazie per la visione